Marchetti, rientrante Marchetti, colpo di testa ancora di Marchetti, la palla balza nel cuore di centrocampo, ancora il Borgabugiano, una sponda, attenzione, la palla verso l'incrocio, è un tiro calcolato da Forte, prima azione, la secondo minuto, e D'Antoni fatto da sponda al numero 11, Forte. Ancora in avanti la Rigor Lamezia, l'assist del numero 10 Catanese.